Fino a Riberto è una batteria, un applauso. Roberto Fasciani, applauso, l'avete già visto ieri come si scrive. Grazie a tutti voi. Questa sera, come ieri, tanta gente ha suonato Jimmy e ognuno l'ha fatto a modo suo, come lo sente, come lo vive. Sono stati tutti bravissimi, sono rimasto sconvolto da Vince Pastano, la sua band fantastica, un applauso, ma anche a Mr. Blue, il mio Rainbow, Gipsy Rainbow, Giorgio Cavalli, anche la band di ieri sera, bravissima. Questa qui la dedichiamo a un angelo che non c'è più, partiamo subito, l'ena romantica, sì. Questa è un angelo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.